Questa parte qua giù, questa è, perché è subito attaccato a questa lì, capito? Non ti preoccupare di che poi io sì, lo faccio partire anche mezzo da dopo, voglio sapere di che letto, canta questa parte? Canta praticamente qua qui, fino al cilenzio e poi riprende dal casino. Sì, vabbè, ok. Sì, vabbè, ok. Vabbè, vabbè. Grazie. 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 Grazie.